Comizioni per te, saldato! Usiamo quella controaerea per abbattere gli Stuka! Quei bombardieri distruggono... Ecco che arrivano! Ora è una! Sta precipitando! Coltito! Sta precipitando! Il tipo alla radio sembra incazzato! I cruchy non capiscono che succede! Ne arrivano altri! Ora è una! Colto diretto! Colto diretto! Ci attaccano! Gli Stuka ci attaccano! Colto diretto! Lai in alto! Precipita! La davanti! Non ancora! Ora è tre! Colto diretto! Precipita! Ora è una! In alto! Ne sono troppi! Stai attento! In alto! Colpisci lì, Daniels! Con quello sono tutti! Bene, Daniels! Ehi, è Perez! Ehi, Perez! Tutto bene? Il mio amico Mills è morto nell'imboscata! Ma ci siamo venditi!